Amici di Delichesis, buongiorno. Oggi, 24 ottobre, abbiamo curiosato all'interno dell'incontro di preghiera della comunità dei giovani ganesi residenti in Italia. Questo è quello che ci hanno raccontato. Da quanto tempo vivi in Italia? Vivo in Italia da dieci anni e mezzo. Sei mai stata in Ghana? Sì, ci sono stata due volte. La prima volta avevo due anni, l'ultima volta sta nel 2010. Hai frequentato scuole italiane o scuole ganesi? Ho frequentato i primi anni di alimentare giù, poi dalla quinta alimentare fino alla quarta superiore, che devo finire l'ultimo anno ora. Ti senti integrato nel nostro tessuto sociale? Sì, molto. Dopo dieci anni dico di sì, anche se i primi anni delle superiori non sono stati facili. Come mai? Perché ci sono stati dei piccoli atti di razzismo, in cui comunque mi ha fatto, però comunque sono stata forte, perché comunque c'erano gli insegnanti che mi davano tanto motivazione. Sogni di restare in Italia o di viaggiare? Di viaggiare, perché l'Italia mi sembra un po' troppo stretta, diciamo. Problemi di integrazione? No, mi hanno sempre accettato, nonostante sono di colore. Abbiamo fatto una verifica di italiano, un tema, e ho preso più di queste ragazze e mi fa tornatene a casa tua, sennò ti faccio diventare bianca. Ti piacerebbe vivere in Italia o viaggiare all'estero? Preferirei comunque vivere in Italia, ma visto che metà del mio cuore è comunque legato al Ghana, vorrei tanto fare qualcosa all'ingana per il paese, visto che è sempre stato il mio sogno.